Sono con Maria Rossi a Sanremo New Talent Toscana con una compagna inseparabile Assolutamente sì, questa compagna di vita questo compagno perché è flicorno e non tromba è insieme a me da ormai 11 anni sono anche laureata in conservatorio quindi insomma è una compagna molto decisamente importante Nella tua esibizione quindi alternerai la tua voce a questo suono? Sì assolutamente, anche perché ho scelto una canzone dove credo che il suono del flicorno ci stia molto bene poi sono appassionata di musica jazz quindi con Luigi Tenco e la canzone Mi sono innamorati di te sicuramente verrà una bella esibizione Penserai di sfondare, chissà se vincerai tu Sanremo New Talent? Ma non lo so, io credo che l'importante sia divertirsi e comunque amare quello che si fa poi dopo i successi vengono da soli Giusto, è certamente fare una bella esperienza io ti faccio il mio migliore in bocca al lupo Grazie, grazie Mi sono innamorata di te Perché non avevo niente da fare Il giorno volevo qualcuno da incontrare La notte volevo qualcosa da sognare Mi sono innamorata di te Perché non potevo più stare sola Il giorno volevo parlare dei miei sogni La notte La notte Parlare d'amore Ed ora che avrei mille cose da fare Io sento i miei sogni svanire Ma non so più pensare a nient'altro che a te Mi sono innamorata di te Adesso non so neppure io cosa fare Il giorno mi pente di averti incontrato La notte Ti vengo a cercare Mi sono innamorata di te Mi sono innamorata di te Mi sono innamorata di te Mi sono innamorata di te